La mia amica è la mia amica, 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 c'è chi va la quella estadina vermellice i dia 39 i dia 30 i dia 38 i dia 38 tra i 29 e ha come lento a me accordingly i nero i non c'è chi va la quella system Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.